A volte anche il semplice utilizzo di un'applicazione può trasformarsi in una tragedia. Tenetevi forte, questo è il file di Jesse Shane Kampson. Ciao belli di zio, sono Andrew e anche questo venerdì sono pronto a raccontarvi una storia da brividi. Per i file di oggi prenderemo in analisi un caso che ha come protagonista un'applicazione che sono sicuro che tutti conoscete. Si tratta di Tinder. C'è chi lo usa per fare nuove conoscenze, nuove amicizie e chi lo usa per... Purtroppo però applicazioni del genere a volte possono farci incontrare persone che non vorremmo mai conoscere. Preparatevi e spegnete tutte le luci. Iniziamo subito. Jesse Shane Kampson è nato e cresciuto in Nuova Zelanda. I suoi genitori divorziarono quando lui aveva soltanto nove anni. Durante la loro separazione Jesse trascorse la maggior parte della sua infanzia con suo padre e suo nonno poiché sua madre si era trasferita all'estero. Il ragazzo ha frequentato l'Autea College dove giocava a softball per una squadra regionale a livello professionale. Oltre a questo lavorava come barista quando poteva. Durante il periodo tra il 2013 e il 2016 Jesse si trasferisce in Australia dove per vivere fa proprio il barista e per arrotondare come seconda occupazione lavorava nell'edilizia. Agli occhi della sua famiglia Jesse sembrava essere in tutto e per tutto un giovane lavoratore che amava divertirsi nella vita. Per tutti gli altri invece era una sorta di mistero. Alcuni suoi amici sostengono che Jesse fosse un bugiardo patologico e che spesso affermava di aver preso una laurea in diritto e che proveniva da una famiglia milionaria, proprietaria di catene di ristoranti e negozi a Sydney, cose che ovviamente non erano vere. Dopo pochi anni in Australia Jesse però decise di tornare in Nuova Zelanda, a Green Lane, insieme ad alcuni ragazzi che aveva conosciuto in Australia. Proprio loro dissero che Jesse aveva spesso dei comportamenti inquietanti ed era assolutamente inaffidabile. Poco più che ventenne, come molti adulti della sua età, Jesse comincia a utilizzare delle app di incontri per conoscere delle nuove ragazze. Il problema è che anziché farne un uso moderato, Jesse divenne pian piano ossessionato dall'applicazione. Nel dicembre del 2018 si trovava proprio su una di quelle app, probabilmente la più famosa, ovvero Tinder. Mentre scorreva i profili alla ricerca di un possibile appuntamento, si imbatté nel profilo di una giovane donna chiamata Grace Millane. Grace era originaria di Wickford, nell'Essex, e si era da poco laureata all'Università di Lincoln in Marketing. Dopo essersi laureata, Grace decise di prendersi un anno sabbatico prima di riprendere con gli studi. Così, con lo zaino in spalla, comincia a girare il mondo da sola. Dopo aver viaggiato per sei settimane in Sud America, Grace decise di passare due settimane in Nuova Zelanda, e il 20 novembre 2018 atterrò proprio lì. Qualche giorno dopo, più precisamente il 30 novembre, a soli due giorni dal suo compleanno, si reca ad Oakland. Era da tempo che voleva visitare il quartiere centrale degli affari di Oakland, e decise quindi di festeggiare la il suo compleanno da sola. Il primo dicembre, però, giorno prima del suo compleanno, Grace, che anche lei usava Tinder, si imbatté proprio nel profilo di Jessica Empson. I due vennero subito abbinati dall'applicazione, poiché entrambi si erano messi like e iniziarono quindi ad avere una lunga conversazione. Parlarono e parlarono fino a che non decisero di incontrarsi dal vivo per un appuntamento. Visto che Grace non aveva intenzione di rimanere ancora a lungo, si incontrarono di persona lo stesso giorno. Una telecamera dell'edificio Sky City ha ripreso proprio il momento in cui i due si videro per la prima volta. Nel filmato, registrato intorno alle 17.45, possiamo vedere i due che si abbracciano e cominciano a parlare mentre camminano. Si dirigono all'interno dell'edificio e prendono le scale mobili per andare al secondo piano, nel quale si trovava un ristorante chiamato Andy's Burgers & Bar. Una volta che i due entrarono nel bar, possiamo vederli prendere un paio di menù prima di prendere un tavolo e uscire dal campo visivo della telecamera. Sembravano entrambi molto tranquilli e a loro agio. I due presero qualche drink e qualcosa da stuzzicare. Dopo poco più di un'ora da quando erano entrati nel bar, vengono ripresi nuovamente da una telecamera. Questa volta uscivano dall'edificio per dirigersi verso Federal Street, dove trovarono un locale chiamato The Mexican Cafe. Si fermarono anche lì per bere qualcosa. Passata qualche ora, anche qui possiamo vedere dai filmati Jesse che paga il conto, prima di dirigersi nel terzo e ultimo bar della serata, The Bluestone Room. Intorno alle 20.30, a pochi istanti dopo essere entrati, Jesse e Grace vengono ripresi mentre si baciavano ripetutamente. Per quelli intorno a loro, potevano sembrare la classica coppia felice e innamorata. Entrambi non riuscivano a tenersi le mani lontane l'uno dall'altro. È qui però che le cose cominciano a prendere una brutta piega. Intorno alle 9.20, dai filmati si può vedere Grace che si allontana dal tavolo, presumibilmente per andare in bagno. Si fida a lasciare la sua borsa con Jesse, credendo che ovviamente se ne sarebbe preso cura con rispetto mentre lei era via. Quello che però verrà ripreso dalle videocamere è qualcosa di molto diverso. La telecamera cattura il momento esatto in cui Jesse si allunga sul tavolo, afferra la borsa di Grace e comincia a cercare qualcosa al suo interno. Poi prende qualcosa e se lo mette in tasca, molto probabilmente era del denaro, e poi rimette a posto la sua borsa come se nulla fosse accaduto. Per quanto preoccupante, non finì qui. Una volta che i due uscirono dal Bluestone Room, camminarono fino all'hotel City Life in Queen Street intorno alle 21.40. I due prenotarono una stanza per passare la notte insieme. Vengono ripresi anche mentre entravano nell'ascensore dell'hotel per andare in stanza, e quella sarà l'ultima ripresa in assoluto di Grace Millen viva. Qualcosa era andato storto, e i suoi familiari e i suoi amici più cari si accorsero subito che le era successo qualcosa. Il 2 dicembre, infatti, come abbiamo detto, era il suo compleanno, e Grace non rispondeva né alle chiamate né ai messaggi che le avevano inviato. Non era proprio da lei, ma per non reagire in modo eccessivo, i genitori aspettarono un paio di giorni prima di chiamare la polizia e denunciare la sua scomparsa. Mentre i genitori cercavano instancabilmente di rintracciare loro figlia, Jesse aveva noleggiato una Toyota rossa da una compagnia di autonoleggio nel centro di Oakland. Quando Grace venne ufficialmente segnalata come persona scomparsa, venne lanciato un appello pubblico e tutta Oakland era in allerta. Ma cosa è successo davvero a Grace Millen dopo essere scesa dall'ascensore dello Sky City Hotel? Secondo Jesse, i due avrebbero avuto un rapporto violento che, alla fine, era andato troppo oltre, e per colpa di un errore, Grace era morta soffocata. Secondo le indagini svolte sul telefono di Jesse, però, è successo qualcos'altro. Sono state trovate delle prove che dimostravano che Jesse aveva scattato delle fotografie intime del corpo senza vita di Grace. Quindi non reagì in preda al panico, come avrebbe fatto chiunque se la sua morte fosse stata davvero un incidente. Dopodiché venne scoperto che Jesse cercò su Google una zona sperduta nel nulla, in mezzo ad un bosco a soli 45 minuti di auto dall'hotel. Come abbiamo accennato prima, l'uomo noleggiò un'auto, ma prima di farlo è stato visto in un negozio locale acquistare una grande valigia con ruote. Dopodiché torna all'hotel per lasciare le valigie e si reca in un negozio ad acquistare vari prodotti per la pulizia. Dopo aver noleggiato con successo la macchina, torna di nuovo nella stanza per lasciare i prodotti. A questo punto accadde qualcosa di assolutamente inaspettato. Jesse viene catturato dalle videocamere di sorveglianza quello stesso pomeriggio, ma è con un'altra donna in un bar. L'altra donna ovviamente venne interrogata, e si scoprì che era un'altra ragazza che Jesse aveva incontrato su Tinder, e in tutto questo il cadavere di Grace si trovava ancora sul pavimento della stanza nell'hotel. La ragazza inoltre aggiunse che Jesse durante il loro appuntamento faceva delle osservazioni strane. Più tardi, quello stesso giorno, Jesse è stato nuovamente avvistato dalla telecamera dell'ascensore dell'hotel. La stessa che il giorno prima aveva ripreso i due andare in camera. Questa volta però aveva un carrello per spostare delle valigie fuori dall'hotel. E la cosa più agghiacciante è che in una di quelle valigie c'era proprio il corpo rannicchiato di Grace. Le telecamere riprendono anche il momento in cui carica le valigie nella Toyota che aveva affittato, per poi dirigersi proprio in quel posto sperduto che aveva cercato su Google. Fu proprio lì che seppellì la valigia con il corpo all'interno, e tornò come se nulla fosse successo alla sua vita di tutti i giorni. Il 7 dicembre, il padre di Grace, David, era arrivato ad Auckland per chiedere informazioni e avere delle risposte dalla polizia locale. La polizia era riuscita ad identificare un uomo che secondo alcuni testimoni era stato visto con Grace il primo dicembre. Si trattava proprio del 26enne Jesse Shane Kampson. Jesse fu quindi interrogato sulla scomparsa di Grace. Durante l'interrogatorio sembrava sospetto. Cambiava spesso versione sul contenuto di quelle valigie che era stato visto trasportare dalle videocamere a circuito chiuso. La polizia, dopo quell'interrogatorio, dichiara ufficialmente che stavano trattando la scomparsa come un'indagine per un suicidio. E Jesse era il principale sospettato. A quel tempo, a causa della legge neozelandese, il nome non era stato rilasciato pubblicamente. Dopo ulteriori indagini, però, finalmente, il 9 dicembre 2018, riuscirono a trovare anche il corpo di Grace. Era passata poco più di una settimana dalla sua morte. Jesse venne quindi processato tre volte separatamente. Durante il primo processo venne condannato per l'omicidio di Grace Millen a 17 anni di carcere. Nel secondo processo è stato dichiarato colpevole di abuso sospettale fisico e finanziario, ma non da parte di genitori di Grace, ma da parte di una sua ex ragazza, che dopo aver visto il nome di Jesse nelle notizie, si fece avanti. Questa ragazza disse inoltre che Jesse aveva cercato di uccidere anche lei nel gennaio del 2017. L'aveva inseguita per casa con un coltello e cercava di soffocarla. Per questo venne condannato ad altri sette anni e mezzo di carcere. E infine, nel terzo processo, viene ritenuto colpevole di aver aggredito un'altra donna. Questa donna, come Grace, aveva incontrato Jesse tramite Tinder e si fece avanti anche lei solo dopo aver letto le notizie sui giornali. Al termine di quest'altro processo, venne condannato ad altri tre anni e mezzo di carcere. Sommando tutte le accuse, gli venne quindi dato l'ergastolo e a oggi si trova ovviamente in carcere, dove passerà il resto della sua vita, in una cella. Per fortuna Jesse non può più fare male a nessuno adesso, ma sono sicuro che altra gente, come lui, usa queste applicazioni per cercare delle vittime. Magari non per ucciderle, ma comunque in quelle applicazioni possono nascondersi persone davvero pericolose. Quindi io, come al solito, vi consiglio di stare i più attenti possibili. Prima di incontrare dal vivo una persona conosciuta online, mi raccomando, accertatevi che sia una persona per bene, per quanto possibile. Conoscetela meglio prima di vedervi. Conoscevate già questa storia? E una volta conosciuta, pensate che presterete più attenzione alle applicazioni di incontri. Fatemelo sapere qui sotto. Detto questo, io come al solito vi ringrazio per la visione, spero che questo video vi sia piaciuto e vi do appuntamento al prossimo venerdì con un altro file. Ciao!